Carolina Marconi in lacrime. Ha ricevuto l'esito degli esami dall'ospedale. Benvenuti su Quotidiano Notizie, iscrivetevi e attivate la campanella per restare sempre aggiornati. Nelle scorse settimane, Carolina Marconi aveva condiviso con i suoi seguaci un aggiornamento sulla sua situazione di salute. Dopo aver sottoposto a dei controlli a seguito di una diagnosi di tumore al seno, aveva scoperto una macchia al fegato. Di conseguenza, aveva deciso di affrontare un altro esame di risonanza con mezzo di contrasto per indagare ulteriormente la natura di questa macchia. Dopo un'ansiosa attesa durata alcune settimane, finalmente sono giunti i risultati tanto attesi. Secondo quanto riportato da fanpage.it, Carolina ha condiviso con i suoi follower la sua reazione alla notizia. Fortunatamente, i risultati hanno confermato che la macchia, lunga 9 mm, era un angioma benigno. Carolina Marconi ha raccontato che, appena ha preso questa notizia, è scoppiata in lacrime di gioia. Ha espresso la sua felicità anche gridando di gioia. Carolina ha raccontato su Instagram di aver prontamente chiamato la sua famiglia per condividere questa notizia e, con la voce ancora tremante dall'emozione, ha comunicato loro che stava bene. Nel lungo post pubblicato sulla sua pagina Instagram, ha voluto ringraziare tutti per il sostegno e l'affetto che ha ricevuto in questo periodo di ansiosa attesa. Lasciate un commento al video e un vostro pensiero per Carolina. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per tutti gli aggiornamenti. Grazie e arrivederci!